Questa azienda cinese produrrà auto volanti già dal 2025. Proprio qualche video fa vi ho parlato della startup appunto di auto volanti in cui sta investendo Elon Musk. Ma ovviamente i competitor dalla Cina non si sono fatti attendere. Con la differenza che l'azienda Xpeng sembra più avanti nella tabella di marcia. Infatti i loro veivoli che hanno rinominato Aereo HT hanno già ricevuto il via per le certificazioni. E proprio in questi giorni stanno avviando i primi test. In particolar modo per il prototipo X3F che sembrerebbe un veivolo appunto ibrido sia volante che stradale. L'obiettivo sarebbe quello di fornire queste auto a civili e turisti per lo spostamento di tutti i giorni anche in città. Usando nel loro caso quattro eliche alimentate da motori elettrici. Per evitare il traffico come nei film di fantascienza che conosciamo tutti molto bene. E se otterranno anche la certificazione per il volo vogliono iniziare a produrre appunto dal 2025. Anche se chiaramente oltre alle dichiarazioni fatte per marketing secondo me l'obiettivo è ancora abbastanza lontano. In quanto sono ancora soltanto dei prototipi e richiederanno tutta una serie di regolamentazioni adeguate. Ma nonostante questo il mercato dei veicoli volanti è in forte espansione e questo è il motivo per cui...